Allora scusate di ritardo, buonasera a tutti, si fa come l'anno scorso che io dico gli indisponibili che così si toglie poi, si pulisce il pericolo di sprecare poi una domanda, visto che i temi sono tanti. Torosidis, fermo, coscia destra, Florenzi, fermo, polpaccio destro, Rudiger, Mario Rui, Nura, stanno continuando il percorso di riabilitazione, SEC è rientrato a disposizione oggi, Sallena, perché gli ultimi allenamenti l'aveva saltati. Non c'è nessuno altri. Possiamo iniziare con le domande, inizia Calicchia, Roma TV. Buongiorno mister, in vista della sfida con l'Udinese quanto può pesare sotto l'aspetto mentale e fisico la sfida con il Porto? No, io penso sia un peso perché poi noi da questa sfida ne siamo usciti abbastanza bene, nel senso che probabilmente qualche dubbio c'era anche noi stessi per quello che avevamo fatto prima, per il tipo, per il livello di partite che eravamo andati ad affrontare. Invece poi lì dentro il comportamento è stato corretto. La squadra si è avuto poi il risultato che è pronta, che è pronta, quindi diciamo se ne subisce una spinta in positivo di sicurezza della nostra forza. L'Udinese ha cambiato poco rispetto all'ultima stagione. Volevo chiedere quali sono le difficoltà di questa partita anche alla luce del ritorno con il Porto. Sì, è cambiato poco, è vero. Poi loro sono bravi, loro hanno una società che chiarisce bene a tutti subito quelle che sono le intenzioni. Nel senso che prendono questi ragazzi giovani, questi fenomeni o piccoli fenomeni, li fanno giocare, ne hanno moltissimi, da tutte le parti ne hanno moltissimi. Proprio gli avanzano in tutti i ruoli e possono cambiare formazione. Hanno un target per andargli a prendere, tutta gente che ha forza fisica, che ha corsa. Per cui sotto l'aspetto della battaglia sarà sicuramente una partita dura, ci sarà da lottare. Però non hanno più Di Natale. Di Natale ha smesso e senza di lui perdono sicuramente qualcosa. Aggiungerei che, come ho già detto altre volte, che io Iachini lo conosco bene e so quello che sa trasferire alla propria squadra sicuramente sarà una squadra pronta, una squadra forte a giocare la partita contro di noi. E non ci facciamo ingannare da quello che è stato l'ultimo risultato contro lo Spezia. Perché ho parlato con diversi dello Spezia, perché io li conosco tante persone e tutti mi hanno detto la stessa cosa. È la partita dove allora è andato male tutto e a noi è andato bene tutto. Però noi siamo stati in partita, ma nei particolari poi un po' la fortuna e la sfortuna hanno fatto la differenza. A Porto il centrocampo è sembrato il reparto secondo me migliore, più affidabile, veramente a quasi tutto, nel senso che forse gli manca un po' un giocatore che dia leggerezza al possesso palla, dia l'imbucata, dia imprevedibilità, la giocata che magari crea la sorpresa verso la difesa avversaria. Io le chiedo se è d'accordo con me, se questo giocatore lo ha in rosa o se va cercato nell'ultima settimana di mercato. Noi abbiamo Strottman al posto di Pjanic e Strottman è più forte di Pjanic. abbiamo Paredes al posto di Pjanic e Paredes è più forte di Pjanic. Per cui ci avanzano quelli che sono più forti di quelli che sono partiti. Perché poi mi sembra di capire che riferimento è a questi due e noi siamo a posto. Sotto l'aspetto della qualità c'è anche Gerson che è sicuramente un giocatore che ha delle buone qualità, delle buone caratteristiche. E' chiaro che deve calarsi bene in quello che è la realtà, in quello che è il nostro tipo di calcio. Poi, così, si elimina un'altra possibile domanda. Con l'arrivo di Pérez c'è la possibilità di far giocare il Florenzio più avanti. Per cui il Florenzio potrebbe andare a centro campo, potrebbe andare davanti. Siccome sento che i dubbi potrebbero essere anche questi. E per il momento siamo a posto così. Sì, si può migliorare tutto. Allora si potrebbe anche pensare a un altro giocatore a centro campo. Però noi per il momento stiamo fermi in questa maniera qui. Abbiamo la certezza, se non ci succede qualcosa di particolare, di avere le qualità che ci vogliono poi per giocare il nostro calcio e per evidenziare la nostra forza. Menghi, il tempo. Buonasera. Buonasera a lei. Una provocazione per iniziare. Lei andrebbe allo stadio parcheggiando a due chilometri di distanza. Legato a questo, cosa si aspetta dai tifosi quest'anno, visto che all'inizio del campionato si vuole fare anche magari l'ennesimo appello? Grazie. Io non penso che tutti, se si riuscirà a riempire lo stadio, non penso che tutti possano partecipare nel parcheggio interno. C'è qualche d'uno, vabbè, è anche più distante la macchina. Per cui due passi sotto il clima di Roma li ordinano tutti i dottori. le cose belle della vita sono talmente poche che è meglio gustarsele perché sono contate e non si sa quelle che poi saranno il giorno dopo, quelle che verranno a seguire. È meglio viverle subito. La Roma è una bella cosa, una bella realtà. Viviamo tutto quello che è che è spettacolo e che è coinvolgente. La Roma è così. The Roma way. Val di Serri, il Corriere della Sera. Buongiorno, volevo chiedere se in queste quattro partite in undici giorni ci sarà più bisogno di turnover per ragioni fisiche o se il turnover può servire anche per tenere più giocatori un gruppo più numeroso di giocatori dentro la partita, dentro la partita, dentro la del progetto. Allora, proprio perché ci sono quattro partite così ravvicinate, subito all'inizio, è una bella botta di fatica sia a livello fisico che a livello psicologico. Per cui qualche cosa cambieremo, qualche cosa cambieremo dietro, qualche cosa cambieremo in mezzo, qualche cosa cambieremo davanti. Ma soprattutto perché io ho una squadra forte, ho una squadra forte nella sua totalità. Non ho una formazione forte, ho un gruppo di giocatori forti e li voglio usare, li voglio usare perché così possono far vedere le loro qualità. E non faccio la formazione per accontentare nessuno. Quelli che vengono con l'innusino perché non hanno giocato non rigiocano neanche la prossima se non fanno le cose fatte bene. Se vengono evidenziando le proprie intenzioni, noi li teniamo tutti in considerazione perché abbiamo fatto una rosa per non avere il calciatore lì a disposizione ma poi il timore di non poterlo usare perché non ha le qualità che ci soddisfano o che ci possano poi dare un aiuto. Nessuno ha queste difficoltà o a questi difetti di quelli che faranno parte della nostra rosa. Dubaldo Corriere dello Sport Buonasera, ciao. Volevo chiederti a proposito di scelte, se sul portiere hai fatto una scelta definitiva oppure se valuterai nel corso della stagione, nel corso di queste partite, considerato che Cesni è tornato e si è allenato da pochi giorni con i compagni. No, no, io lì ho scelto così perché Cesni si è allenato poco perché poi Cesni è uno di quelli che ha meritato di giocare questa partita qui nel campionato precedente. Ha meritato Cesni, aveva meritato e Sciaravi, l'aveva meritato, però poi vado a fare le scelte e faccio giocare quelli migliori per cui già si parte da lì nell'evidenziare che scelgo in base a quello che ritengo più forte al momento senza dovermi far influenzare da quello che è il sentimento, però a questi bisogna ricordarglielo. E noi non abbiamo la responsabilità dei mancati introiti della Roma o economici della Roma. Noi, casomai, dobbiamo dare a questi giocatori il merito di aver creato l'opportunità di giocare questa possibilità di entrata perché loro hanno creato la possibilità, l'opportunità. Non come sento dire che la Roma se non entra perde, perde, perde. Loro sono stati bravi a ribaltare la situazione. Io parlo per quanto riguarda il periodo dove io ci sono stato. E loro vanno ringraziati. Uno di questi è Cesni per cui viene preso in considerazione fortemente come l'altro per qualsiasi partita. Dipende da loro, non dipende da me, dipende da loro, da quello che fanno vedere loro. E i discorsi che si facevano dieci anni fa sono differenti da quelli che bisogna fare adesso. Si va avanti in tutto, siamo andati avanti. Prima si faceva otto chilometri in una partita di calcio, ora se ne fa dodici, tredici. Quando si parla, ma quel giocatore là si andava più piano, ora si va più forte, si pensa più veloce. Ma il portiere deve essere uno, sì, così sta comodo, va a casa, fa che gli pare, ha la maglia sempre titolare. Che ragionamento è? Perché? Perché? Perché si usava così, si faceva sempre così. Però poi quando si ha a che fare con il mondo nuovo ci si accorge che le cose cambiano. Per cui io sono allenatore e cerco di sbagliare il meno possibile perché poi, come tutti sbaglio, però scelgo in base a quello che loro mi indicano. Non ci sono problemi. Quindi significa che rispetto allo scorso anno che c'era un portiere titolare, Scesni, un portiere, diciamo, di riserva che era De Santis, in questo momento la strategia, la gerarchia, scusami, dei portieri è diversa. Non ce n'è uno titolare in partenza. Prima di diventare titolare Scesni era titolare De Santis, era riserva Scesni. A un certo punto è subentrato Scesni perché era titolare De Santis. Io non ero l'allenatore, però la seguivo e la guardavo. Mi è sembrato di vedere giocare De Santis tante volte. Ma prima io mi riferisco a un periodo l'ha fatto anche De Santis da titolare. Durante il precampionato, poi alla fine è cominciata la prima giornata, pronti via, qui è giocato Scesni. Poi è entrato De Santis quando Scesni si è infortunato, però per carità. Io mi ricordavo questo, mi sono sbagliato. Verona-Roma, 22 agosto, prima giornata, il campo Scesni. Benissimo. Io faccio di Fiorenti. Grazie. Rossomando, Teleradio Stereo. Salve mister. Ieri Bruno Perez in conferenza ci ha detto di essere stufo, di vedere vincere sempre la Juventus, non ce la faccio più, ci ha detto. A cui volevo chiedere, si fanno anche sui giornali, in televisione, le grafiche con la Juventus B che sarebbe più forte di quasi tutte le squadre della nostra Serie A. Le chiedo, è così veramente impossibile quest'anno lottare contro la Juventus? Ragazzi, l'abbiamo detto troppe volte. Lo so che a voi vi piace sentirsi dire sempre la stessa risposta. Bruno Perez ce l'ha anche detto ieri. Dice, noi voglio vincere di qui, voglio vincere. Beh, oggi incomincia a pedalare lui. Perché se vuoi vincere bisogna pedali forti, intanto. E poi noi le vogliamo vincere tutte. Vogliamo vincere tutte. Questo fatto di dover andare a scegliere quella da vincere o quella che si può perdere. No, 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 non scegliamo tutti. Noi scegliamo la vittoria. Vogliamo vincere tutte le partite. Vogliamo montare sopra tutto ciò che passa. Poi però c'è il confronto con Juventus, Napoli, Milan, Inter, Fiorentina. E dentro queste qui ci siamo anche noi. Ma ci sono anche queste qui. Non crediate che quelle che sono state messe l'anno scorso dietro ripartano da dietro perché partano da noi. E non crediate che l'Inter o il Milan sia peggio della Roma perché non sono peggio della Roma. Perché è un errore. È una presunzione che non vi posso concedere quella lì. Per cui noi siamo, come ho detto prima, siamo forti e fin da subito dobbiamo cominciare ad essere anche grandi. Di Carlo, Rete Sport. Eccomi. Salve. Avrei una curiosità di natura tattica su quanto riguarda il ruolo di Bruno Peres. Cambia qualcosa con l'assenza di Mario Rui? Mi spiego. Con Juan Gisos a sinistra magari avrà più modo lui di spingere e la difesa rimarrà più o meno bloccata con tre centrali? O anche con il ritorno di Mario Rui, che è più disposto ad andare sul fondo e crossare, avrà gli stessi compiti difensivi. Io li divido, sì. Li divido. Difensori, centrocampisti, attaccanti. Poi qui ne scelgo quattro e li fa giocare. Bruno Peres è un giocatore che ha sempre giocato nelle giovanili quarto della linea difensiva. Poi ora si vuol dire che il quarto non lo sa fare. Staremo a vedere, però intanto se l'ha allenato due mesi con Sinisa Mihailovic e lui la fase difensiva e le cose da difensore sicuramente gliele sa dire e gliele sa insegnare. Per cui già lì ci sa questo vantaggio. Poi è uno che ha qualità di spinta, che può giocare a destra e a sinistra, perché ha giocato a sinistra anche l'anno scorso. Poi i destri e a sinistra possono giocare tutti. Sono i sinistri e a destra che sono un po' più in difficoltà, cioè è più facile vedere questo. Ma noi abbiamo uno che lo può fare, che è Emerson. Emerson può giocare anche a destra, non solo a sinistra. Poi Gesù è uno che se messo in fascia è più forte nella fase difensiva o subisce meno la fase difensiva. Di Peres o di Mario Rui o di... Rüdiger l'avevi ramentato? No. Non ti gara da lui. No, no, no. L'ha ramentato tutti, perché Rüdiger. Noi si è pensato a Bruno Peres perché fra un mese e mezzo rientra Rüdiger. Perché se no avremmo preso un altro tipo di tersino probabilmente. Ma ci sa Rüdiger che è lì che poi può fare veramente uno tosto di una linea di difesa a quattro e... Lui può giocare di qui, può giocare di là. Ma da una parte, pensando proprio a Gesù, da una parte magari si spinge di più e da una parte si sta un po' più attenti all'equilibrio della squadra. E va bene perché... Ecco, non vedo... O perlomeno non trovo tutte queste precisazioni o tutte queste difficoltà da fare. Ecco, perché poi per portare avanti le situazioni non abbiamo bisogno della squadra, abbiamo bisogno del gruppo. E io di questo gruppo qui mi fido moltissimo. Perché, come ho detto a loro, è una delle formazioni più forti che io ho allenato da quando faccio l'allenatore. Ce l'ho avuto anche altri, ma anche questa è forte, forte. Facciamo l'ultima. Sonnino, Radio Radio. Alve Mister? Sì. Tempo fa lei parlò dell'impatto delle tournée sulla preparazione estiva. Quindi le volevo chiedere come sta la Roma da un punto di vista fisico e come ha impostato la preparazione per affrontare quest'anno. Ma anche lì, quello che si imposta è un inizio di lavoro. Si imposta un inizio di lavoro perché? Perché tu hai un periodo dove tu programmi quelle che sono le cose da fare per raggiungere un certo livello. Poi però, anche dentro questo periodo qui ci sono l'amichevoli dove voi andate poi a trarre delle conclusioni sui calciatori e sul tipo di squadra che abbiamo senza pensare al programma di allenamenti. Per cui, siccome siete una voce importante e ci fa piacere sapere anche quelle che sono le critiche, noi dobbiamo stare attenti a quello che componiamo sia come lavoro che come poi amichevoli. Però dopo l'amichevoli non è che tu possa avere lo stesso perché le amichevoli ti determinano poi tutto uno scenario nuovo. Le partite ti determinano, per esempio, io oggi Florenzi l'avrei voluto a disposizione, Toro Sidis l'avrei voluto a disposizione, gli allenamenti stessi. dici questa settimana velocità. Arrivi e c'è uno che ha un muscolo intossicato che a fare velocità rischia di farsi male e non la fa. E ce n'è due, e ce n'è tre. E tu stersi e poi gli va rifatta rifare dopo. E questi dopo non siamo nelle condizioni di farli rifare. Per cui, a che punto è? A me mi sembra a buon punto perché prendo per analisi o prendo di vista quello che è successo l'ultima partita e dico che si sta bene. Poi c'è chi la vede in un modo e chi la vede in un altro. Però, a grandi linee, io c'ho Mario Lui che è portoghese e gli ho fatto portare i giornali di laggiù. Volete confrontare i giornali di laggiù con i giornali vostri? Lo vogliamo fare questo giochino? Vogliamo vedere le pagelle di laggiù con le pagelle vostre? Vi sto di garba a parlare di pagelle. Vogliamo vedere quante insufficienze c'è di loro e quante insufficienze c'è di noi? Vogliamo? Per cui, loro hanno ora sicuramente l'attenzione e un po' di tensione per questa partita di ritorno, come noi. Abbiamo un'attenzione e un po' di tensione perché è una partita importante. Però c'è differenza poi nel trattare i propri calciatori. Te lo dico io, perché l'ho visto. E se vuoi te li faccio portare anche a te giornali a Mario Lui. C'è un'insufficienza. Qui ne leggo cinque. Su una partita pareggiata a Porto, dove la squadra ha fatto bene quando è stata in undici, è stata in difficoltà dopo quando è stata in dieci. Ma se vado a vedere la conta delle situazioni importanti avute, realizziamole tutte. Probabilmente, secondo me, si era vinto la partita anche per quella che è stata la cronostoria della partita stessa. Capisci? Poi, ognuno è giusto che scriva quello di fare. Il comportamento del nemico sincero è una qualità che apprezzo. Ho finito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.